Sì ragazzi, sì, esiste proprio un ETF con un dividendo del 10%. Ovviamente se stiamo parlando di valori lordi, netto saremo attorno al 7,5%. L'ho comprato? Adesso ve lo andrò a dire e lo analizzeremo insieme perché un ETF con un dividendo del 10% sarebbe veramente ottimo per il mio portafoglio, portafoglio che ha l'obiettivo di pensionarmi anticipatamente, di pensionarmi a 50 anni. Ne ho parlato nel mio romanzo finanziario che se volete trovate su Amazon in formato cartaceo e in formato digitale. Quindi andremo a vedere un pochino i pro e i contro di questo ETF perché è un ETF recentemente quotato su Borsa Italiana e probabilmente la maggior parte di voi non lo conoscono. Mi raccomando, un bel like a questo video, aiuterete il canale Investire in Borsa a caccia dei dividendi, mi farà molto piacere perché questo video sarà visto da tante persone e se non l'avete ancora fatto, se siete di passaggio, iscrivetevi al canale, schiacciate sulla campanella e non vi perderete i prossimi video. Direi che siamo pronti per vedere questo ETF. Stiamo parlando di un Global X Super Dividend. È UCI, quindi è perfettamente armonizzato ed è a distribuzione, un emittente di cui non abbiamo mai parlato. La strategia, diciamo, tende a replicare l'indice Solactive Global Super Dividend quale replica i titoli con il più alto rendimento da dividendo in tutto il mondo. Quindi si va a prendere esclusivamente quelle azioni con i dividendi maggiori. Il ticker, lo vediamo qua, del ETF è SDIV, SDIV e l'ISI lo potete vedere qua. Possiamo vedere come il prezzo attuale di 12,28 euro si colloca più o meno a metà tra il minimo e il massimo dell'ultimo periodo. È un ETF con una dimensione piccolissima, soltanto un milione di euro di masse in gestione. Infatti è stato lanciato il 15 febbraio 2022, quindi un mese e mezzo circa di vita. È a replica fisica totale. La valuta è il dollaro, quindi non c'è copertura valutaria. Il costo dell'ETF è abbastanza alto per essere un ETF, 0,58% su base annua. Ma se ne vale la pena è un costo che magari può essere anche sopportato. La frequenza di distribuzione del dividendo è semestrale. Andiamo a vedere se questi costi appunto ripagano la qualità dell'ETF. Come abbiamo visto la dimensione piccola di questo ETF porta a un numero di contratti giornalieri abbastanza basso, ma non bassissimo. Tutto sommato tutti i giorni ci sono stati dei contratti e se uno lo guarda con un'ottica temporale di lunghissimo periodo, alla fine anche se ci sono pochi scambi in questo periodo iniziale, poco conta. L'importante è che però la massa in gestione continua a crescere. Possiamo vedere come infatti non abbiamo storico attualmente sui dividendi distribuiti e quindi non abbiamo un gran che su cui basarci per quanto riguarda questo ETF quotato anche in Italia. Ma quindi mi chiederete, ma scusa Lorenzo tu hai detto che ha un dividendo del 10%, come fai a dirlo se non ha mai distribuito neanche un dividendo? Perché adesso ve lo dirò. Vediamo un pochino come si è comportato in questo primo mese di quotazione, ha seguito più o meno l'andamento dei mercati mondiali con un calo fino a metà marzo. ovviamente dovuto allo scoppio della guerra in Ucraina, però tutto sommato poi si è anche ripreso discretamente. Dicevamo appunto come ho fatto a capire che ha un dividendo del 10%, semplicemente perché questo ETF è il clone di un altro ETF già presente negli Stati Uniti, un ETF non armonizzato, però finalmente per chi desidera acquistarlo è arrivato anche qui da noi in Italia e in Europa. Il ticker per chi lo volesse vedere è sempre lo stesso, queste slide sono tratte direttamente dal sito di Global X ETF e questo ETF è partito nel lontano 2011, quindi ha una storia un pochino più lunga, ha una spesa sempre dello 0,58 anche negli Stati Uniti, la distribuzione per il mercato statunitense, distribuzione dei dividendi intendo è mensile e ha distribuito dividendi tutti i mesi per oltre 10 anni. un asset in gestione di 866 milioni di dollari, quindi insomma un ETF abbastanza grande se rapportato ai nostri europei. Potete vedere anche l'ISIN in questa schermata, nel qual caso vogliate andarlo ad analizzare per conto vostro, cosa che mi sembra altamente opportuna e possiamo vedere appunto come la Distribution Yield, quindi la percentuale di dividendo distribuito, sia del 10,18% con frequenza mensile. Quindi insomma, dividendi molto alti, ma perché? Da dove arrivano questi dividendi? Quali azioni ci sono dentro? Le andiamo a vedere in questa schermata. Allora, queste qui sono le prime top azioni all'interno dell'ETF. Cosa buona, secondo me, da vedere è che l'azione più presente, che è Logan Group, ha un peso di soltanto l'1,77%, quindi è molto molto diversificato, quantomeno per quanto riguarda il numero di azioni. Al secondo posto abbiamo China, Aoyuan, poi Times China, poi KWG Group, al quinto posto Agile Group, Ximau Group, Media Real Estate, Guangzhou e China Ximau, insomma tantissime aziende che io sinceramente non conosco. Non so voi, magari ditemelo nei commenti, però io sinceramente queste aziende che ricoprono le posizioni più importanti all'interno dell'ETF non lo conosco. Andiamo però a scendere, a scorrere e vedere qualche azione magari un pochino più famosa. Abbiamo Imperial Brands, abbiamo Omega Healthcare, in questo caso siamo davanti ad aziende con un dividend yield veramente importante, almeno superiore al 7-8%. Abbiamo ancora AGNC Investment, abbiamo Luman Technologies, abbiamo Invesco Mortgage, abbiamo M&G, azienda di gestione del risparmio inglese, insomma qualche nome un pochino conosciuto ce l'abbiamo, poi magari voi conoscerete anche qualcos'altro. Andando a vedere la diversificazione settoriale possiamo vedere il grande peso dei financial e del real estate, quindi settore finanziario e settore immobiliare, che ricoprono messi insieme il 56% di questo ETF, poi energia con l'11% e via via servizi di telecomunicazione, materials, utilities, eccetera, eccetera. Sotto il punto di vista della diversificazione geografica, fa da padrone gli Stati Uniti, però con un 32%, ricordiamo che spesso nel World gli Stati Uniti ricoprono circa un 65%, poi abbiamo un 15% di Cina e 14% di Hong Kong, quindi peso abbastanza importante sia per la Cina che per Hong Kong. Come sta andando questo ETF? Sul mercato americano in modo tale da avere uno storico, eccolo qui l'andamento degli ultimi 10 anni, un andamento che sinceramente non mi piace per niente. In fondo è vero, il dividendo è elevatissimo, ma il prezzo è in continuo calo. Possiamo vedere come alla fin fine negli ultimi 10 anni abbia perso sostanzialmente il 50% della quotazione e però il trend è di un calo continuo, mentre invece il resto del mondo è cresciuto in maniera veramente importante negli ultimi 10 anni. Quindi un ETF che personalmente non mi piace granché sia per il tipo di aziende che ha al suo interno sia per l'andamento storico che ha avuto. Poi magari alcuni di voi avranno opinioni diverse. Vi invito a dirmelo nei commenti. Direi che per oggi abbiamo finito con l'analisi di questo ETF. Come sempre vi ricordo di mettere un like e l'iscrizione al canale. Aiuterete a investire in borsa caccia di dividendi a raggiungere i 5.000 iscritti entro magari giugno. Dai, per oggi abbiamo finito. Un saluto a tutti da Lorenzo. A presto e ciao.